sat assicurazioni insieme a te nello sport e nella vita Siamo al Parco delle Valere di Moncalieri, alle mie spalle vedete la partenza della regata internazionale di Gran Fondo d'Inverno sul Po, organizzata dalla Canottieri Esperia di Torino Sicuramente ogni volta che c'è una gara qua a Torino è sempre un'emozione molto forte perché si passa dal centro città fino ad arrivare a Moncalieri fuori città a 6,5 km in fondo al fiume La nostra gara si svolge dal Parco delle Valere, quindi in mezzo al verde, in mezzo alla natura e scende nel centro attraversando la zona monumentale più bella, il Castello del Valentino per arrivare a Piazza Vittorio E questa è una particolarità unica al mondo perché anche le altre gare di Head of the River che si svolgono in città anche più importanti come Londra o Boston non hanno uno scenario così bello E' fantastico, è fantastico, è il Po, è un paio molto famoso di regatta qui A parte le due boi che abbiamo beccato, però oltre a quello ci piaceva Qualche difficoltà nell'indirizzare la barca, abbiamo preso un ponte, l'altro l'abbiamo schivato e il risultato alla fine ci sembra abbastanza buono, abbiamo recuperato Ho partecipato a più di un'edizione, mi ricordo in maniera molto piacevole, uno perché ero sicuramente molto più giovane E' una gara dura e impegnativa perché sei chilometri non sono pochi